Sai che canzone è? Till there was you. Di quale anno? 1950. Un compositore? Meredith Wilson. La musica li aveva uniti. L'ultima volta che l'avete visto? Diversi anni fa. Ormai sono quasi 20. Vent'anni dopo. Oh mio Dio. Non potevano essere più distanti. Perciò il tumore si trova in quest'area. Non possiamo dire che tipo di danni permanenti abbia causato finché non operiamo. Ciao, io sono Gabriel. È un piacere conoscerti Gabriel. Io sono qui perché mi occupo di musicoterapia. Perché non ti siedi? Potremmo essere in grado di usare la musica come strumento per risvegliare parti della sua memoria che possono essere state danneggiate. Non importa quanto ti senti smarrito. La musica di certo ha effetto su di lui. La musica ti riporta sempre a casa. In prima visione assoluta. La musica che non ti ho detto. Questa domenica alle 21 su CineSony più del cinema. La musica ti riporta.